ragazzi che ne dite se facciamo un bel video con la b funk? sai quelli che fanno adesso online così ognuno a casa sua con propri strumenti o un arrangiamentino bello che mi piacerebbe fare, che ne dite? vi aspetto! bella idea ciccio io ci sto ah bene ci sto e quant'è che si prende? no mi raccomando la cena direi che è un'ottima idea sono dei vostri ottima idea sono con voi sì sì molto volentieri ma che bella idea ci sto bella idea io ci sto perché no si cosa prende un sorsofono cosa cosa non vedo quelli funk no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.